Siamo con Rossella Calderone per la non edizione del concorso letterario nazionale, quest'anno un tema particolare dedicato a Mater Terra, una goccia per alleviare le pene. Questo tema nasce proprio da questo momento purtroppo buio della nostra epoca, dove purtroppo la madre Terra è privata dei propri affetti, cioè significa la natura che viene degradata dall'uomo, la società che si avvilisce sempre di più con l'essere umano che vuole sopravvalere sull'altro. Quindi tante tematiche messe insieme che fanno sì che questo titolo del premio dell'Associazione Engel von Berghe racchiuda tutte queste gocce insieme per riformulare un mano umano che possa far nascere nuovi sentimenti e anche possa far crescere questa cognizione di una natura che sia più viva nei nostri cuori. Un'edizione riuscita quest'anno nel bellissimo scenario del Castello Piro del Balzo, qui nella magnifica Venosa. Sì, noi siamo stati ospitati quest'anno in questa magnifica locazione che è una locazione del 1500 ed è stupenda. È una realtà che pochi conoscono e che io mando un messaggio a chi ci ascolta di poter visitare per poter apprendere sempre di più la cultura e le radici di una città e di una regione piccola ma bellissima, incastonata tra altre regioni. Un resoconto di quest'anno in edizione, ti ritieni soddisfatta? Non è la mia soddisfazione in sé Antonio ma è la soddisfazione di tutta l'Associazione e la soddisfazione di chi realmente ci tiene avanti e chi ci supporta. Quindi è un qualcosa di unico che ci rende poi partecipi, è una voce che ci rende partecipe. Quindi è formata da tante persone. Quindi non è solo la nostra soddisfazione ma è la soddisfazione di chi entra nell'Associazione e che ne fa parte. L'anno prossimo è un anno importante, il decennale della scompassa di Angelo Calderone. Sì, purtroppo è una data molto triste per noi, però è una rinascita forse, quella di Engel von Bergheiche, perché attraverso questa associazione può ancora continuare a far sentire la propria voce e la voce di chi non ha la possibilità di potersi esprimere. Grazie a tutti.